Paratoria nella strada di mercoledì 7 ottobre, poco dopo le 22, in via Buffa a Castellamonte. Due persone sono state ferite le gambe da colpi di arma da fuoco mentre si trovavano all'esterno della pizzeria Seven Rosso. I malviventi, dopo aver esploso i colpi, sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca del Canavese, la Croce Rossa di Castellamonte, l'Eli Soccorso del 118 e i Carabinieri. I due feriti, i due fratelli di Feletto, sono stati ritrasportati al CTO. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Castellamonte, Pasquale Mazza. Sono in corso le indagini per risalire i responsabili della sparatoria. Grazie. 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 Grazie.